Un appuntamento particolare per la nuova edizione del progetto letture effervescenti. I ragazzi del liceo scientifico di Serni hanno infatti incontrato lo scrittore Andrea Gentile. Con il suo libro L'impero familiare delle tenebre future, edito dal saggiatore, si è affermato a livello nazionale. Un incontro diverso dal solito perché Gentile, fino a qualche tempo fa, era di casa al Majorana. Dopo le celebrazioni per il decennale abbiamo voluto invitare qui al liceo Andrea Gentile con il suo romanzo L'impero familiare delle tenebre future, proprio perché è stato un ex studente del liceo. Questo romanzo ha suscitato l'interesse dei ragazzi per il suo stile molto intenso e concettoso e anche per le tematiche che in effetti i ragazzi, come sempre, accade nel nostro progetto, hanno saputo tirar fuori. Un incontro emozionante per il giovane scrittore Sernino. In effetti non capita tutti i giorni tornare nella propria scuola. Ma anche se in veste di scrittore, l'interrogazione proprio non ha potuto evitarla. I ragazzi lo hanno infatti tempestato di domande. C'è stata una recezione per me veramente molto importante, perché significa che quando si cerca anche di addensarsi e andarsi ad addentrare in significati intensi poi i ragazzi possono sicuramente farlo e non soltanto essere su qualcosa di più superficiale, per così dire. Quindi sicuramente i ragazzi hanno recepito molto bene e sono stato molto contato anche delle critiche che sono state molto costruttive. A coloro che sognano di diventare scrittori da questo consiglio. Il primo obiettivo deve essere quello di leggere, essere curiosissimi e leggere continuamente. E poi ci sarà un periodo in cui molto dovrà essere riscritto, gettato, molte pagine saranno buttate al vento. Però l'esperienza deve essere sanguinante, quindi deve uscire il sangue dalle dita per poi a un certo punto continuare a far uscire in eterno ma ricevere quantomeno la possibilità di avere qualche lettore, qualche esperienza intensa come quella che ho vissuto oggi con i lettori, con i ragazzi di liceo scientifico. Andrea Gentile naturalmente non si è fermato. A breve pubblicherà un libro con un'altra prestigiosa casa editrice. Dovrebbe uscire tra due o tre mesi e per la casa editrice Rizzoli non ho ancora un titolo, sarà un libro più lungo di questo e leggermente più prosastico, spero che piaccia.